Tomovic intercetta Amertens ancora Tomovic Diavara insigne per Amsic che ha dato un'occhiata per vedere chi c'è a centro area e colpisce Kaye Honna sull'assistenza di Amsic Tatarushan ha provato a deviare ma non è bastato palla nel sacco e il Napoli passa in vantaggio in questa sfida eliminazione diretta un lampola controgiocata del Napoli ecco insigne intesa perfetta con Amsic che volta la testa per vedere dove è Kaye Honna e lo trova con un assist al bacio la deviazione aerea intuisce, prova ad opporsi ma non trattiere Tatarushan ed è vantaggio Napoli l'ha cercato e l'ha trovato è stato bravissimo a Leona ad infilarsi in mezzo ai due centrali e colpire praticamente da solo e va in doppia cifra stagionale Kaye Honna otto gol l'ha ain't